Da oggi anche la polizia locale di San Dona di Piave è dotata di un defibrillatore per il pronto intervento. A Donargielo è stata l'associazione Amici del Cuore, il cui scopo è dotare l'intera città di mezzi e persone capaci di salvare vite. Abbiamo un progetto molto ambizioso come associazione che è stato intitolato a uno dei nostri associati che purtroppo è morto prematuralmente proprio per problemi cardiovascolari, Antonio Pampana, che è quello di installare sul territorio del comune di San Dona di Piave dei defibrillatori fissi che poi possono essere utilizzati da personale ovviamente addestrato e quindi a disposizione della cittadinanza in luoghi aperti. Antonio Pampana, prima di essere una persona che aveva lavorato molto attivamente nell'associazione Amici del Cuore, è stata una persona molto presente in tutta la cittadinanza, soprattutto per aiutare e seguire le persone più fragili, gli ultimi. Quindi veramente una bella giornata questa e che rende San Dona, la città che è, è una città fatta di solidarietà, di relazioni, che mette insieme le persone per aiutare chi ha più bisogno. Mi pare che intanto l'atto significativo sia l'uso di questo termine donazione che sta a dire proprio un atto di generosità nei confronti della comunità di San Dona di Piave, non solo per aver donato questo strumento che andrà a dotare la polizia locale di un ulteriore presidio nei momenti in cui ci fosse esigenza, necessità, urgenza di avere questa attività da eseguirsi all'interno del Comune di San Dona per le persone che ne hanno bisogno, ma anche per ringraziare insomma l'associazione e tutti i partecipanti del dono del tempo che stanno offrendo appunto per sensibilizzare sul tema della prevenzione che passa attraverso i corretti stili di vita e alle misure da adottare nel caso in cui si dovesse incorrere in questo tipo di situazione. Quindi lo strumento serve, come serve la competenza di chi lo sappia utilizzare e come serve che tutta la città sia sensibile e possa appunto offrire del proprio tempo per migliorare le condizioni di salute della comunità. Per quanto riguarda invece il privato cittadino cosa può fare per aiutare la cittadinanza, la prima cosa che mi viene in mente è quella di poter fare un corso per poter essere un addetto all'utilizzo del defibrillatore, sono corsi che vengono fatti dalla Croce Rossa o da altre associazioni, sono corsi molto brevi ma che permettono a una persona di poter fare la differenza e di salvare una vita.